Quando ho visto Amtara nella gabbietta pensavo di sognare, non credevo ai miei occhi Lui non può parlare, ma mi è bastato guardarlo per capire quanto sia stato complicato per lui tornare a casa E di questo gliene sarò sempre riconoscente Oggi è stata una giornata colma di gioia, vero? E sono sicura che domani lo sarà ancora di più Giusto, piccolo mio?